Istituire un tavolo di lavoro permanente per monitorare spese, opere, progetti e durata degli interventi previsti nel patto per la Sicilia è quanto chiedono al Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia e alla Sindaco di Gela, Domenico Messinese, i consiglieri comunali di Reset 4.0, Francesca Caruso e Luigi Di Dio. A Gela, così come stabilito dal Premier Matteo Renzi, dovrebbe arrivare un decimo delle risorse stanziate nel patto che sarà destinato a finanziare progetti infrastrutturali. Dovrebbero arrivare tanti soldi, lo speriamo. Oggi c'è il balletto dei numeri, ci sono naturalmente partiti politici di governo sia nazionale che regionale e fanno il balletto dei numeri, ma ad oggi dati certi non ci sono. Noi vogliamo istituire un tavolo immediato affinché intanto conoscere le risorse che proprio sono su Gela e poi fare in modo che queste risorse non vengono perse. Il Partito Democratico sottolinea che arriveranno realmente tanti soldi proprio per l'economia gelese, che soffre maledettamente. Il Partito Democratico dice che arriveranno 500 milioni di euro. Ricordiamo che 250 milioni di euro saranno per l'autostrada Siracusa-Gela, che finirà a Ispica, non arriverà a Gela. Poi 125 milioni sono sulla Santo Stefano di Camastra-Gela, ma che partirà da Santo Stefano di Camastra e arriverà ad Aggira e quindi non sono veramente ricadute sul territorio. Poi arriveranno a meno sul Patto per il Sud, sono state concertate su Gela circa 90 milioni di euro, escluso il megaporto di cui parla Crocetta, che verificheremo. Vogliamo proprio il tavolo per capire se queste risorse ci sono veramente e come poterle utilizzare senza farle disperdere. Il consigliere di Reset 4.0 interviene anche sulla firma posta martedì a Palermo sui lavori che interesseranno il porto rifugio di Gela. Avere un porto fruibile significa fare in modo che i pescatori ritornino a lavorare e fare in modo che, così com'è, possa essere utilizzato al meglio. Questo è un punto d'inizio perché ora bisogna capire quali sono i tempi certi che non sono stati dati sul tavolo regionale. Invece, tornando al tavolo tecnico che voi cercherete di istituire, quale sarà il primo obiettivo da raggiungere? Capire quali sono veramente i cantieri subito da mettere in campo, se ci sono dei progetti da completare che vengono fatti immediatamente, quindi pungolare sia l'amministrazione locale che quella regionale affinché questo venga fatto. Noi vogliamo che i soldi su Gela non vengano dispersi, poi vogliamo che anche concertare con la società civile ma anche con le forze economiche del territorio come devono essere spesi 32 milioni di euro e fare in modo che gli 11 milioni di euro delle compensazioni minerarie non vengano perse.